Se ti chiedessi sulle donne, probabilmente mi faresti un compendio delle tue preferenze. Potrai perfino aver scopato qualche volta. Ma non sai dirmi che cosa si prova a risvegliarsi accanto a una donna e sentirsi veramente felice. Se ti chiedessi sull'amore, probabilmente mi diresti un sonnetto. Guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile. Non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi. Sentendo che Dio ha mandato un angelo sulla terra solo per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non sai cosa si prova ad essere il suo angelo. Avere tanto amore per lei, vicino a lei per sempre, in ogni circostanza. Non sai cos'è la vera perdita. Perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto.